Bene, buongiorno a tutti i miei cari concittadini minerviesi, vorremmo oggi dare un piccolo contributo, piccolo che però crediamo possa essere diremente, al dibattito che c'è stato negli ultimi mesi sul rapporto fra l'ambiente, la salute e la sicurezza di minervio e la presenza della centrale di compressione del gas di Stogit. Come sapete da qualche mese la nostra comunità ne sta discutendo abbastanza rimatamente, ci sono delle preoccupazioni perché è stato sostenuto da parte di un'associazione attiva su questo fronte che ci sarebbe una faglia capace nel sottosuolo di minervio e conseguentemente questa potrebbe innescare un rischio sismico. Bene, premesso che il nostro compito non è mai quello di fornire delle tranquillizzazioni a priori, ma di approfondire scientificamente e tecnicamente meglio possibile l'argomento, bene, oggi possiamo dire in maniera dirimente come sotto i nostri piedi non ci sia nessuna faglia capace. Ce l'aveva già detto la Regione Emilia Romagna, ce l'aveva già detto gli NGV, bene, da un paio di giorni abbiamo anche la lettera di ISPRA, l'ente di ricerca che cura il catalogo ITACA delle faglie capace italiane che ci ha messo nero su bianco come non ci sia nessuna faglia per l'appunto capace. Perché sottolineiamo questo aspetto? Perché vorremmo che fosse chiaro che questo progetto di cui stiamo parlato è un progetto voluto dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal cosiddetto Mise e proposto da Stogit. Il nostro compito come comune è essere controparte di questi soggetti e cercare di avere i massimi approfondimenti possibili per capire di che cosa si sta parlando a tutela dell'ambiente e della nostra comunità. Ed è per questo che ci dispiace che tutti in questi incontri, in questi dibattiti, SNAM e Stogit non abbia mai partecipato e non abbia mai dato il suo contributo. Anche perché, come diceva Lorenzo, vorrei che non passasse il messaggio che è l'amministrazione comunale di Minervio a volere l'ampliamento dello stoccaggio e l'aumento della sovrappressione. E assolutamente non è così. È volontà del Ministero dello Sviluppo Economico su proposta punto di SNAM e Stogit. Bene, vi leggo il passaggio della lettera di Ispra. Ho scritto a Ispra chiedendogli è vero o non è vero che ci sia questa faglia capace nel nostro sottosuolo perché così parrebbe dal vostro catalogo. La risposta, molto articolata, ma vi leggo naturalmente il passaggio a chiave, poi la lettera la metteremo prestissimo a disposizione sul nostro sito e insieme al resto della documentazione. Dice Ispra, la faglia di Minervio sulla base delle conoscenze ad oggi disponibili e delle linee guida della protezione civile del 2015 non è da considerarsi una faglia capace accertata. Mi sembrano parole assolutamente stentore che dovrebbero a questo punto chiudere almeno questo filone di dibattito. Perché dico questo filone? Perché non è che la presenza della centrale Stogit, come abbiamo sempre detto, non sia significativa. Non è che non sia una presenza ingombrante, ma concentriamoci su quelli che sono i veri problemi, le vere criticità. Ad esempio il tema della qualità dell'aria, per cui stiamo cercando di organizzare un dibattito che speriamo possa essere a metà marzo, giorno più giorno meno. Per cui mi chiedo, anche a chi ha sostenuto questa tesi della faglia capace, forse un po' troppo frettolosamente, un po' improvvidamente, non è il caso di abbassare un attimo i toni, di rasserenare il dibattito e di concentrarci su quelle che sono le vere e reali criticità dell'argomento di cui stiamo parlando. La nostra porta come amministrazione comunale rimane sempre aperta. Noi siamo all'amministrazione comunale del dialogo, aperta sempre ad ogni confronto. Speriamo che chiarito questo tema si possa procedere, ripeto, con modalità e confronti più sereni e senza personalizzazioni, come abbiamo visto in passato. Anche perché se leggendo lo statuto dell'Associazione per l'Ambiente e Terre di Pianura, lo scopo principale dell'Associazione è appunto quello della tutela dell'ambiente e del territorio, non possiamo che avere una comunione e visione di intenti e giocare tutti dalla stessa squadra. Bene, per cui da Staglio e l'Oglio, da Faglio e Mingo, secondo di chi mi stia più simpatico, speriamo insomma di aver dato questo piccolo contributo alla discussione. Ripeto, noi per ogni forma di riflessione e dialogo e di approfondimento tecnico-scientifico siamo sempre assolutamente a disposizione. Grazie a tutti della pazienza.